ciao a tutti roberto con il channel sempre qua la forza il sede aziendale bellissima suzuki s4 cross anzi s cross 4 perché 4x4 allora vediamo già faro lenticolare ma non abbiamo fatto il faro lenticolare non l'abbiamo fatto ha già l'impianto originale allo xeno quindi abbiamo fatto quello che mancava ragazzi sotto il fendinebbia base h11 kit led radiator e ragazzi qua bisogna lavorare in grande the best c'è anche la parola the best sulla scatola bene non ci sono fortunatamente problemi di spie noi salutiamo anche il nostro amico alessandro di fratelli milani e salutiamo che il nostro è un venditore di suzuki che ovviamente mi conosceva e ha portato la sua suzuki per fare quello che mancava non ci siamo fermati sul fendinebbia perché siamo andati anche oltre quindi abbiamo fatto tutto l'interno t10 osram su le due plafoniere che sono le due davanti bellissime ragazzi di stile come piace a me uno e poi abbiamo il tetto panoramico quindi sono state replicate le plafoniere laterali un due poi abbiamo fatto anche per concludere sempre chip osram eccovi qua anche la t10 della luce tarca conclusa e come ho detto nessun problema affortunatamente le suzuki non hanno questo problema e quindi ragazzi come sempre sotto i link nella descrizione di questa bellissima s cross della suzuki con faro lenticolare base h 11 kit led radiator trovate tutto sempre il brand elettro discount eccolo qua shop punto elettro segnomenodiscan.com è il nostro shop online san zeno nell'ambro via primo maggio civico 16 telefono 02 98 26 0207 i miei soci e i miei canali per trovare sempre quello che faccio rgc mio stag youtube instagram facebook e ti toc ciao ragazzi iscriviti al canale